Martedì 19 novembre, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di prima mattina alle 7, siamo con la Rassegna Stampa in diretta e siete sul canale 17 di Fano TV. Ben ritrovati, cominciamo dal Santo del Giorno e poi le previsioni e i giornali. Il Santo che la Chiesa ricorda oggi tra i tanti santi e beati c'è anche Santa Matilde di Ackerborn, così come San Simone l'eremita. Il sole sorgerà alle 7.07 e tramonterà alle 16.40. Vediamo il tempo per la giornata di oggi, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, che per oggi prevede un po' di precipitazioni, anche se in zone limitate dell'Appennino, però ci sarà pioggia. Temperature minime in aumento e le massime invece stazionarie. Ancora un po' di venti di brezzatese moderati lungo la costa. Per domani, mercoledì 20, la pioggia si sposta sulla costa centro-settentrionale delle Marche. Al mattino, infatti, avremo domani il cielo irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sul mare e lungo la costa, come dicevo, poi nel pomeriggio seguiranno delle schiarite. Va da sé dunque che nella mattinata di domani avremo anche rovesci sparsi nella fascia basso collinare e costiera, con fenomeni invece assenti nel corso del pomeriggio. Giovedì 21, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature massime stazionari, ancora vento forte per venti di garbino sull'Appennino centro-settentrionale. E dunque, insomma, attenzione perché continuerà a soffiare, soprattutto nella parte interna. Avremo condizioni di tempo stabile, con buon soleggiamento fino a sabato, con probabile peggioramento per la giornata di domenica. Adesso i giornali aprono, così il Corriere Adriatico, con le nuove nomine da parte di Luca Ceriscioli sulla sanità. In realtà salta solo Marini, Ceriscioli punta su Storti, per quanto riguarda l'Asur non è stato confermato il direttore generale indagato. Via Libera dunque, e quindi riconfermati, Caporossi, Maria Capalbo e Genga. Questa è la prima pagina del Corriere di Pesaro. La fotonotizia è per i quartieri e il traffico dei vari quartieri pesaresi. Dopo il cappotto del centro-sinistra nelle 12 zone, ora si lavora i programmi. Dalla circonvalazione alle rotatorie, la viabilità è la questione onnipresente. E questa è la fotonotizia del Corriere. Questa è invece la prima pagina del resto del Carlino. Un mare di rifiuti, la fotonotizia, lega ambiente in azione sulle spiagge. Un disastro, un disastro per tutto ciò che è stato recuperato, ma questa non è una novità. Ex Bramante invece tutti via nel 2020, il Comune dovrà sgomberare l'edificio. Le alternative sono la scuola Olivieri, Pesaro Studi o l'ex Banca d'Italia. La politica, Bettini che dice addio a Forza Italia ed entra nella Lega. Bettini lo vedete in questa fotografia qua. E poi i risultati del voto nei quartieri a Pesaro, il Carlino pubblica in nome di tutti gli eletti. C'è spazio per lo sport, basket, Chapman infortunato, la VL, parliamo ancora in ansia. E poi un incidente che è avvenuto ai danni di un imprenditore che adesso è ricoverato in grevi condizioni, risucchiato dall'ingranaggio del Silos che stava ripulendo. La pagina di Ancona, spiagge pattumiera, legambiente raccolto oltre 11 mila rifiuti di ogni genere. Al Salesi invece, tragico parto, lei si salva, muore il feto. La pagina di Macerata con la costa in difesa in primo piano, SOS mareggiate, chalet a rischio a Porto Recanati. E poi le pagine interne con il Corriere Adriatico che pubblica il grafico con le nomine della sanità regionale. Per quanto riguarda l'azienda regionale Ospedali Riuniti di Ancona, confermato Michele Capogrossi. Per l'azienda regionale Marche Nord, confermata Maria Capalbo. Gianni Genga, confermato all'azienda Inerca. Mentre è nuova, all'azienda sanitaria regionale, l'Asur Nadia Storti. Niente confermo invece per il DG Alessandro Marini, indagato a luglio nell'inchiesta della Procura di Ancona per corruzione tentata turbativa d'asta per il max appalto da 200 milioni di euro per le pulizie della sanità marchigiana. Tutti i dettagli nel giornale delle Marche di questa mattina. Anche il resto del calino nella pagina di Pesaro parla dei vertici della sanità. Capalbo confermata, titola la regione Silura Marini. La direttrice dell'azienda ospedaliera Marche Nord resta al suo posto. Alla guida dell'Asur c'è invece ora Nadia Storti. Cambio di guardia sull'ex direttore della sanità regionale. Ha pesato anche l'inchiesta sugli appalti. Banca Marche, prestiti con procedure anomale. Aldo Maiola dell'area ispezioni interne dell'ex istituto di credito sentito ieri come testimone e ha parlato di finanziamenti decisi direttamente dalla direzione generale. Scoperta la cantina della droga, Durbino arrestata in flagranza di reato e posta ai domiciliari una coppia di quarantenni italiani. Lui operaio, lei casalinga. Il maxi sequestro dopo l'irruzione dei carabinieri in una casa isolata. I due hanno patteggiato ad un anno e quattro mesi di carcere. Il succhiato invece nel silo della sua azienda. È un infortunio sul lavoro accaduto ieri pomeriggio alla BMT Bagni di Borgomassano. Gravissimo lo storico titolare Gigi Merli. L'uomo di 75 anni è finito dentro gli ingranaggi nel tentativo di sostituire il macchinario. È stato ricoverato a Torrette di Ancona sul posto intervenuta, come vedete dalla fotografia, anche l'eliambulanza. A Monbaroccio invece è già Natale. Sabato c'è la prima neve artificiale, quella garantita, non dipende dunque dal meteo. Inizia l'attesa Kermess. Pulman anche da Cortina. Bartocetti ringrazia tutti. L'erosione intacca la linea ferroviaria. Fano, il Comune, chiede lo stato di calamità. Operatori e tecnici iniziano la conta dei danni. I bagnini sollecitano un tavolo dell'emergenza. Adesso anche la linea ferroviaria è esposta al rischio di erosione. L'altro ieri le onde sono arrivate al muro di contenimento lungo la spiaggia dell'Arzilla, scoprendone praticamente la base. Chi ha visto il nostro telegiornale, vi invito a guardarlo nelle prossime repliche alle 11, alle 13.45, proprio con le immagini anche dei nostri preziosissimi reporter di strada, siamo riusciti proprio a documentarvi questo fatto, cioè le onde che andavano praticamente fin sotto la linea ferroviaria adriatica. Una situazione dunque difficile. C'è stato il sopraluogo chiaramente ieri del sindaco Massimo Seri, del vice Cristian Fanesi. Hanno parlato anche con gli operatori balneari, hanno tentato di fare una stima dei danni, soprattutto nelle concessioni balneari più colpite, e i tecnici del Comune che hanno fatto lo stesso con tutto il patrimonio pubblico. Insomma, adesso comincia, come si dice in questi casi, la conta dei danni, ma soprattutto si cerca di far fronte a questa che è un'emergenza, che ha degli strascichi, che arriveranno fino alla prossima stagione balneare. Si tratta di pensare come agire, di fare il ripascimento, quindi portare nuova sabbia, nuova ghiaia. Insomma, la situazione non è per niente facile. Rimossi due massi caduti sulla strada delle Cesane, posizionata la segnaletica che riduce la velocità a 30 km orari, in attesa che questi due massi, di cui vi abbiamo parlato anche ieri, vengano spostati. Il Carlino di Fano, mareggiata almeno 300 mila euro di danni, la prima stiba è dei bagnini, negli stabilimenti da Gimarra a Ponte Sasso, il Comune chiede lo stato di calamità in Regione. Bisogna proteggere, dicono quelli della categoria, gli arenili, ad esempio con sacchi di sabbia o blocchi di cemento. Tartufi, evasione dell'IVA per 400 mila euro, è stato condannato un imprenditore per false fatturazioni, chiuso il processo in primo grado. Tecnici di maggioranza e opposizione invece chiamati ad un confronto sul digestore anaerobico. Scelta innovativa della consigliera Fattori, i 5 Stelle nominano i loro esperti, mentre il centrodestra no. È stata convocata per domani sera nella sala del Consiglio Comunale a Fano una riunione congiunta tra le Commissioni Bilancio e Ambiente che avrà come unica tematica quella del digestore anaerobico, argomento al centro del dibattito pubblico. Intanto sul nuovo impianto per rifiuti organici, la Lega chiede le dimissioni di Paolo Reginelli, che è di Aset, appunto il presidente di Aset. Reginelli dicono quelli della Lega si faccia da parte e se riammetta di voler fare il digestore a bell'occhi. Contro l'impianto, senza distingo, la Lega affida il nuovo affondo al segretario provinciale Doglioni che legge nell'attaccamento al progetto del presidente di Aset una manifestazione di incredibile arroganza, meritevole delle dimissioni, almeno quanto, citando un atto di giunta, il fatto è definito scandaloso che Reginelli si riconosca un premio perché spende i soldi della comunità in investimenti fallimentari. Queste sono le argomentazioni della Lega. Sidia Romano, invece, prigioniera in Somalia, ora è nelle mani di terroristi islamici. La Procura di Roma sta valutando se inviare una rogatoria internazionale per la cooperante, 24enne italiana, rapita in Kenya un anno fa e tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamista legato ai jihadisti di Al-Sahabab. La notizia emerge dagli sviluppi dell'indagine della Procura di Roma e dei carabinieri del ROS. Silvia è una ragazza di, come dicevo, 24 anni, di Milano, ma lavora per un'associazione onlus di Fano. Gimarra, un quartiere della città di Fano, la rinascita, parte dal Club degli Anziani. Dopo anni, nel prefabbricato, sono iniziati i lavori all'ex colonia Tonnini e spunta anche a un parco pubblico da 2.000 m2. Sono partiti da due settimane i lavori all'ex colonia Tonnini per dare un nuovo centro civico a Gimarra. Dopo dieci anni di attesa si è finalmente insediato il cantiere. L'appalto è stato vinto dall'impresa Raucci per un importo di mezzo milione di euro, su una base d'asta di circa 730 mila. Per l'estate 2020, anche il Club degli Anziani, attualmente ospitato in un prefabbricato davanti alla chiesa di Gimarra, potrà dunque finalmente trasferirsi nella nuova sede. E questa invece è la pagina, sempre del resto del cardino, che si occupa di cronaca a Fano, con i controlli della polizia nei casolari. Sono stati espulsi otto stranieri irregolari, identificate negli ultimi giorni, 200 persone, moltiplicati nell'ultimo mese i reati contro il patrimonio. I clandestini sono per lo più africani, ma anche di nazionalità russa e romena. Gli agenti del commissariato fanese, diretti dal vicequestore aggiunto Stefano Seretti, e in alcuni casi anche con il concorso della polizia locale, quindi al comando di Anarito a Montagna, in queste settimane, dicevo, hanno sottoposto a verifiche diverse zone della città di Fano, in particolare la stazione dei treni, gli autobus, quella zona degli autobus, e nonché molti parchi pubblici, compresi i parchi giardini del Pincio, i giardini Roma. Poi la polizia ha controllato anche numerosi casolari abbandonati dove prolificano i casi di spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti. Prende il metadone, siamo sulla cronaca di Pesaro, poi si mette al volante, pochi metri dopo, si schianta contro un albero. L'uomo era in cura al CERT ed è stato condannato ieri mattina dal Tribunale di Pesaro a otto anni con ammenda. Anche perché è vietato mettersi alla guida di un mezzo subito dopo aver assunto sostanze stupefacenti, questo lo sappiamo, ma anche quando la sostanza è somministrata dal CERT per fini terapeutici. Questo però evidentemente non lo sapeva il trentenne pesarese da anni in cura al Dipartimento per le dipendenze patologiche. Così cosa ha fatto? Ha preso questa macchina, dopo però qualche metro il pesarese, i cui riflessi erano ovviamente annebbiati, ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un albero. Portato in ospedale è stato ovviamente sottoposto alle analisi del sangue e delle urine e la risposta del laboratorio è stata chiara, era nel pieno degli effetti della sostanza. Questa invece è la pagina di Fano e Valle del Cesano, il racconto dei disagi che vivono i residenti di Montevecchio, siamo vicino a Pergola, dopo la chiusura della strada provinciale Monterolo. Adesso è partito un esposto alla procura, quando la gente non ne può più e urla o comunque chiede, chiede senza ottenere risposte, l'estrema razza è quella di andare in procura con un esposto. Anche perché, come titola con questo virgolettato il resto del carlino, da vent'anni dicono loro siamo ostaggio di una frana. E dunque questi residenti, ormai esasperati, hanno deciso di andare in procura. Taglio del nastro invece per il campo da calcio di Via Fermi a Mondolfo, dove c'è stata questa grande festa che anche noi, la quale anche Fano TV ha partecipato e vi ha documentato ieri in un servizio del telegiornale. Presente anche Luca Ceriscioli, delle belle immagini anche con il drone dall'alto, un bel impianto sportivo che è stato realizzato appunto a Mondolfo. Fratelli d'Italia invece parte sulla scia anche di quello che sta accadendo a livello nazionale del momento d'oro che sta vivendo questo partito, che ha toccato quota 10%, insomma sta andando bene e dunque ne approfitta. Fratelli d'Italia anche a livello provinciale comincia il suo tour. La prima tappa dove sarà Accogli al Metauro. Il coordinatore provinciale Antonio Baldelli ha affrontato i temi della sanità e dello sviluppo ed è partito quindi da lì, da Accogli al Metauro, questo tour che prende il titolo di Liberiamo le Marche, un tour di Fratelli d'Italia organizzato dal coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, quindi Antonio Baldelli, che toccherà tutti i territori della provincia di Pesero e Urbino. Insieme ad Antonio Baldelli poi c'erano anche altri esponenti politici. Questo invece è un bel articolo che vi segnalo sulla pagina di Urbino e provincia. È stato riaperto il Pozzo sul Fureo della Miniera. Stiamo parlando delle esplorazioni del Pozzo Donegani, alla corte della miniera da parte del gruppo speleologico Urbinate, sempre molto attivo. Sono andato prima di arrivare qui in studio, in redazione sono andato a sbirciare un po' anche la loro pagina Facebook, ci sono dei video straordinari, un'attività di oltre 20 anni, ma un gruppo davvero agguerrito. Insomma, qui si parla invece di questa cosa che è nata nel 2016 e questo gruppo speleologico Urbinate che ha calato una telecamera nel 2016 per indagare questo pozzo, che è profondo 330 metri e trovandolo però allagato dopo circa 52. Le riprese però rivelarono anche un cunicolo a circa 44 metri di profondità. Ora, Valletto, tra l'altro anche questa fotografia è affascinante perché si è cercato di costruire anche con queste immagini e quant'altro il percorso di questi sotterranei, eccetera, eccetera. Ora c'è una prospettiva interessante, anche affascinante, che è quella di consentire al pubblico di accedere a questo luogo, anche perché l'aria lì sotto, a parte in alcuni punti dove ci può essere chiaramente del gas, insomma, aria che non è esattamente salubre, però insomma, fino a una certa profondità era perfetta l'aria e quindi si potrebbe sviluppare questo, chiamiamolo così, turismo ipogeo. Ora, nelle Marche ci sono già altre situazioni come per esempio l'ipogeo di Piagge vicino al castello del paese che è tornato alla luce nel 1996, ma ci sono per esempio, vengono in mente anche le grotte di Osimo che sono sotto il palazzo Ercolani, sono quattro grotte da visitare, una è privata, ma insomma, tra l'altro, quella privata non ci sono le luci a lette, quindi bisogna andare con le torce, sul labirinto di grotte cunicoli, insomma, affascinante, ecco, tanto per dirvi che questa cosa è affascinante. E se per qualcuno, come gli spele oggi, la terra può essere affascinante, per altri, come abbiamo visto, invece può essere causa di disagi e anche pesanti. Strada chiusa da 20 mesi, parte l'esposto in procura, anche qui sulla pagina della Val del Cesano si racconta di questo esposto. Processo per il crollo delle mura di Cartoceto. Il sindaco Rossi è stato poco trasparente. I consiglieri di minoranza sulla citazione in giudizio per il risarcimento di 276 mila euro. I consiglieri di minoranza di Cartoceto, Gianluca Longhi, Valentina Ceppetelli, Andrea Letizzi, Eliana Lomanno, ritengono non si sia svolta in maniera del tutto lineare la vicenda del Comune citato in sede civile avanti al Tribunale di Pesaro per una richiesta di risarcimento danni pari a 276 mila euro da parte di una famiglia che aveva subito danni dal crollo delle mura urbiche nel 1992. Silenzio in campagna elettorale e inusuale procedura per la nomina di un legale. A Fossombrone invece no al supermercato nell'area archeologica. La Lupus in Fabula dice nuovo parere della sovrintendenza sul market a San Martino. A Senigallia case popolari tutto fermo da un anno in passe per una norma della regione richiesti controlli sul possesso di altre abitazioni all'estero. Daross di Fratelli d'Italia parla di verifiche impossibili. E poi un clochard che occupa l'Agenzia delle Entrate. A Senigallia un clochard seduto dentro l'Agenzia. Domenica sera all'ora di cena vedete la fotografia e molti hanno notato la bicicletta con varie buste fuori dalla porta scorrevole e dentro seduto in una sedia quest'uomo che nel pomeriggio molti senigalliesi avevano avvistato dentro i negozi dell'area commerciale di via Abbagnano. Sempre da Senigallia però dal resto del cardino pronti i sacchi per difendere il lungomare. Vedete Senigallia già si è portata un po' più avanti rispetto a noi. Ha già trovato un po' di soluzioni o perlomeno le sta affrontando anche con il presidente della regione Luca Ceriscioli in un summit in un incontro che c'è stato appunto ad Ancona e dove il governatore ha detto lo stato di calamità verso un piano per le barriere emerse. Il sindaco Bartozzi di Marina di Monte Marciano che è stata la spiaggia più colpita trincee contro le violenze del mare sosteniamo costi proibitivi. Studenti vita più facile con la carta in gioi questa è la pagina di Urbino del resto del cardino c'è stato un accordo tra l'università Erdis e UbiBanca per offrire agli iscritti uno strumento in più per l'accesso a servizi spese e gestione e porse di studio. La tessera la vedete qua è tipo una sorta di banco ma tra l'altro anche Liban quindi può essere ricaricata permette l'accesso alle mense agli alloggi e grazie anche al microchip consentirà l'inserimento di nuovi servizi è questo accordo che l'università ha appunto stretto con Erdis e UbiBanca e tra l'altro è il primo Ateneo nelle marche a fornire questo tipo di carta e in questa fotografia ci sono tutti i vari dirigenti che riuniti per la foto hanno alla fine della presentazione di questa carta vittime stradali scuole di prevenzione gli alunni dell'istituto Pascoli di Urbino a lezione dai carabinieri dalla polizia stradale per conoscere i rischi della strada e soprattutto ci si è soffermati sul fatto che quando si è in macchina non bisogna leggere e guardare il telefonino e comunque in linea di massima non distrarsi ma guardare la strada nuova luce invece per Marotta Sud titola così il corriere dalle pagine di Marotta sono partiti i lavori per l'illuminazione del lungomare un tratto un ampio tratto che va dalle vele fino al nuovo sottovia via Foscolo è un investimento tra l'altro necessario di circa 42 mila euro che permetterà di rendere fruibile un altro importante segmento di lungomare molto trafficato e mai illuminato sino a questo momento chiudiamo con la pagina sempre del Corriere Adriatico per parlarvi e darvi ancora due notizie la prima è questa intervista che Francesco Uccini ha rilasciato a Fabio Fazio a che tempo fa durante un'intervista e Uccini racconta di quando era precettore a Villa Marina e quando lo licenziarono dopo soltanto un mese e Uccini ha raccontato il periodo appunto in cui lavorava in Viale Trieste tra l'altro Uccini è legato anche a Mondolfo dove si è sposato civilmente con Raffaella nel 2011 però in pochi sapevano magari che tra le prime esperienze nelle prime esperienze lavorative di questo cantautore di Pavana c'è anche questa esperienza a Villa Marina nelle vesti di precettore doveva accompagnare gli ospiti tutti in fila alla mensa non è che gli piaceva tanto dice lui però insomma adesso l'ex convitto ovviamente è ormai chiuso e in disuso da tempo fa brutta una brutta immagine che c'è ancora lì in Viale Trieste però insomma quando era in vita quando era operativo era un bel posto e sotto invece ecco qua la notizia che c'è sulla pagina del Corriere Adriatico di questa mattina un uomo un uomo un giovane sì un giovane che probabilmente drogato ha tentato di baciare alcuni ragazzini è accaduto in Piazzale Matteotti a Pesaro ha anche urinato contro la porta di un chiosto ha destato scompiglio e paura questo show lo show di un giovane indiano che ieri pomeriggio intorno alle tre vagava chiaramente alterato in Piazzale Matteotti forse sotto l'effetto di stupefacente il ragazzo piuttosto esile scusate e obnubilato cioè annebbiato l'ho anche scritto prima si è steso sulle panchine gridando non si sa cosa poi ha iniziato a infastidire i passanti soprattutto i ragazzini più giovani nel tentativo di baciarli e poi chiaramente se ne è andato questa era l'ultima l'ultima notizia della nostra rassegna stampa rassegna che ritroverete domani mattina in diretta alle 7 ma nelle varie repliche poi lo ricordiamo subito dopo la messa delle 7.30 da Loreto poi le repliche nel corso della mattinata e un demanda anche sul nostro sito internet occhiolanotizia.it grazie per averci seguito se avete segnalazioni questo è il numero da segnare sul vostro cellulare noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci Grazie a tutti a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.